5 dicembre 2007, incidente allo stabilimento Tissen Group di Torino. Nello stabilimento delle acciaierie della Tissen Group divampa un incendio che devasta il reparto trattamento termico, causando la morte immediata di un operaio e quella, nelle ore e nei giorni seguenti, di altri sei operai a causa delle gravissime ustioni riportate. Il processo per accertare cause e responsabilità del rogo si è concluso in primo grado con la condanna di sei dirigenti dell'azienda a pene variabili fra i 10 e i 16 anni di reclusione.